Stefano Maggiani, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori del Molise. È una serata importante, un appuntamento importante alla FIGC. Come giudichi questa stagione per voi? Una stagione importante perché ci sono state diverse novità, come quella che consentirà agli allenatori che sono esonerati entro il 30 di novembre di poter avere un secondo tesseramento e quindi è un'annata nella quale abbiamo ottenuto delle piccole vittorie ma che sono importanti soprattutto per quanto riguarda gli allenatori dilettanti. Per quanto riguarda la stagione dal punto di vista della formazione, questo è il corso licenza C che stiamo facendo e qui abbiamo l'amica Valentina De Risi, responsabile nazionale del calcio femminile, allenatrice di UEFA. e la cosa che mi fa piacere è che abbiamo avuto al corso licenza D, che abbiamo fatto lo scorso giugno, ho terminato lo scorso giugno, cinque nuove allenatrici molisane e qui al corso licenza C abbiamo una di loro che sta prendendo anche questa licenza. Per cui sta crescendo il calcio molisano anche tra le donne e ovviamente l'impegno nostro è sempre per dare una mano ulteriore. Un grande lavoro svolto nel tempo dall'Associazione Italiana Allenatori che tu rappresenti a livello regionale. Quali sono i prossimi impegni? Allora, i prossimi impegni sono sempre quelli di fare nuovi corsi di formazione. abbiamo in programma un licenza D e un corso per allenatori di calcio a 5 e futsal, probabilmente anche un corso per preparatori atletici, insomma tutto ciò che riguarda la formazione. Poi avremo a Rimini, abbiamo come anche quest'anno il Coach Experience, dal 6 all'8 giugno saremo lì con i nostri allenatori per svolgere i corsi di aggiornamento e attività di convegno con tutti gli allenatori di Serie A, quindi allenatori professionisti e dilettanti che si ritrovano in una kermesse di tre giorni e il Molise, come lo è stato anche l'anno scorso, sarà protagonista. È un Molise che, grazie a questo lavoro che facciamo in simbiosi con il Comitato regionale FIGICI LND, quindi con Piero Di Cristinzi, con Santina Pompermaier, con tutto lo staff regionale, che ci porta a piccoli passi a superare le difficoltà che non ci possiamo negare, ci sono dalla crisi economica e sociale di questa regione, ma anche quelle che derivano purtroppo dai due anni di pandemia. Però insomma insieme possiamo vincere anche questa sfida.